ciao a tutti io sono francesca e oggi vi faccio vedere come usare apple music spotify e tutti gli altri servizi di streaming in modo gratuito prometto che io pago per usare apple music e quindi non uso non faccio questa cosa però ho trovato questa cosa su internet e ho detto vabbè magari c'è qualcuno che non vuole pagare 9 99 al mese per usare apple music o altri servizi di streaming e quindi può interessare il video ovviamente io non lo consiglio di fare perché non so se sia legale o illegale e quindi però adesso giro l'inquadratura vi faccio vedere ovviamente la canzone che andrò a scegliere io ce l'ho già su apple music quindi non commetto nessun tipo di reato ecco allora cominciamo si deve andare su questo sito qua comunque vi metto il link in descrizione poi se clicca su cominciamo voi dovete scegliere la piattaforma dal quale prendere la musica in questo caso youtube dovete andare ad incollare il link della canzone oppure della playlist o delle playlist che volete scaricare in questo caso io adesso andrò a scegliere una canzone con voi anzi facciamo così stoppo scelgo la canzone incollo il link e procedo però ovviamente vi faccio vedere la procedura allora la canzone che sono andata a scegliere è di rihanna ed è don't stop the music come potete vedere io ce l'ho già sulla mia libreria di apple music ma vado ad incollare il link della canzone ovviamente l'ho presa da youtube ok vi ha preso la canzone adesso dovete selezionare la destinazione se metterla su spotify o su altre piattaforme io ce l'ho andrò a mettere ok una volta fatto tutto ciò avrete la canzone su apple music in questo caso a me non me la da perché io ce l'ho già però dopo voi dovete andare a cliccare sulla canzone e vi chiederà appunto viverà fuori la nuvoletta di scaricare la canzone e questo è in modo totalmente gratuito detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima con recensioni tutorial porto in tutto e di più anche dei blog mi piace portare tutto in questo canale quindi detto questo io vi saluto ciao ciao